Musica Bella a tutti i folli e bentornati su DarkFollyChannel con un nuovo video sul canale Oggi sono qui su ServerTheHive, ovviamente in più in descrizione per portarvi un nuovo episodio della serie Skyjans E come avete sentito, l'acca già si lamenta, sono in compagnia di mio fratello l'acca Ovviamente ragazzuoli, prima di iniziare questo episodio vi invito come sempre a lasciare tanti polliciati in su per sostenere questa serie Dunque ragazzuoli, se non avete visto il primo episodio, ovvero quello che è uscito una settimana fa Che cos'è Skyjunt? È una sorta di fusione tra le Skywars e le Bad Wars almeno, secondo me Perché siamo 4 team, come vedete lì a destra ci sono i colori dei vari team E il nostro letto sarebbe questo mega zombie con 850 di vita Lo scopo di questa modalità ovviamente ragazzi qual è? E cercare di distruggere il gigante avversario e la squadra che rimane viva per ultimo con il gigante vince Perché se ti distruggono il gigante, a differenza delle Bad Wars, non è che rimani vivo e puoi scappare No, cioè perdi direttamente, quindi lo scopo principale è difendere Al momento ragazzi in questi 20 secondi dobbiamo cercare di trovare tutte le cose di equipaggiamento per attaccare il nemico Tipo roba di diamante Non ho trovato ancora nulla tranne la squadra di diamante E poi dopo questi 10 secondi si va ad attaccare il nemico Quindi facciamo così Nello scorso episodio ragazzi se non l'avete visto andatelo a vedere, non vi spoilerò come è finita Però state attenti alla fine del video Mi mancano soltanto i pantaloni di diamante lacca e sono poi full diamante Ah l'ha già trovato nunca Che cosa è? Magic Vial? Perché mi sto avvelenando ragazzi? Perché i blocchi di lapis, per chi avessi seguito la mia serie del Skyworks in questo server, forse se lo ricorda I cosi di lapis non ti danno lapis ma ti danno avvelenamento, invece gli smeraldi ti danno lapis Comunque ragazzi ogni kill che si fa ti danno soldi, i blocchi d'oro, quelli la pro blocchi non i blocchi minerali ti danno soldi E con questi soldi cosa ci fai? Puoi scambiare con il villager per armature e roba di diamante Comunque lac noi siamo il team verde giusto? Sì Qui al centro è pieno pieno d'oro ragazzi di solito, i blocchi d'oro Infatti chi puscia per primo è quello che si fa più soldi in assoluto E soprattutto qui dove vedete in questa sorta di mini tempio spawn una sorta di boss Che è praticamente Boss della camp boss Esatto lac è proprio quello Comunque lac tu dove sei indicato Vabbè non sono handicappato, mi sono un bravo due pantaloni di diamante Allora uno è per me perché mi servivano lac Grazie Allora dobbiamo stare attento Al centro, al destra ragazzi c'è la percentuale della vita dei vari mob Uh qui c'è un diamante con la spada di pietro Penso che lo apriamo senza problemi E perché ha gli occhiali da sola Da sola, da sole questo panda? Dove vai? Sotto le scale? Comunque sto giocando ragazzi con la versione 1.10.2 E quindi possiamo testare per la prima volta se è veramente utile l'autogjump nel pvp oppure è una cosa inutile La gente deve morire ma sono ferro ma ti distruggo Ma il magente non è handicappato Non so gioco ma perché L'autogjump mi stava facendo cadere giù Si è pure avvelenato lac Tieni folle Grazie per i pantaloni Io mi volevo incontrare la spada No ho posato i lapisla A me servono i livelli Non mi ricordo manco come si fanno i livelli Io ho dieci livelli Com'è fatto a fare dieci livelli scusa? Ma forse ci sono i minerali appositi Dio è un creeper Ma perché mi becco il creeper al primo colpo? Prima volta che colpisco il coso d'oro Uh lì c'è un blu Ok questo è questo qua E' strano Già l'ho ammazzato una volta E' detto no di quel centro Bacca attacchiamo un team noi già directly Ti vuoi attaccare tu gold Magenta o green Anzi no aspetta Noi siamo il green e il blu Vieni di qua vieni di qua Tanto ragazzi se moriamo si può spawnare Quindi proviamo a fare un attacco pazzo di qua Oppure due gheppole perché lo trovate al centro E poi si vede E ci sono i gold che già stanno perdendo cuori Lì stanno murando L'acca attacchiamo direttamente Attacchiamo direttamente il coso Guarda qua stanno murando con i blocchi pezzotti di terra Cerchiamo di togliere più vita possibile Ok qui c'è Ma quello è blu il no Ma vieni perché sono convinto che blu siamo noi Ok attacca tutto attacca il coso Non picchiare gli altri tranquillo Ora mi mangio una gheppola così resisto più tempo ai colpi L'acca tu già sei morto Bac Eh Sei morto già No no Ok Però non sono da solo qui a colpire vero No no Perfetto Non lo senti Dai l'acca Guarda quanti vedi Gli stai solo L'hp folle L'hp boom Ma è buono Ok ora sono morto Però gli abbiamo tolto 40% di vita in due Quindi perfetto Però fra un po' mi faccio full armature Io sono full armature Però tecnicamente ragazzi mi vorrei enchantare I nostri sono tutti qui tranquilli A treddare col villager Ok folle vai Io sono un livello Folle hai Ah no Posso craftarmi Ma che Ma perché non c'ho livelli L'hp è su Costa 2000 Una bottiglia dell'enchant Un livello 2000 Io ho solo un livello Io non 10 Quando me ragazzi c'è una risorsa Che ti da E poi continuo a darci Che uno 10 Poi le vieni che vado a enchantare Arrivo Ok nel frattempo ho buttato la spazzatura per strada E uno dei nostri la raccolta Chi che butta i blocchi di terra a caso Mini lacrugine Ci ha dato damage resistant Si per 3 minuti abbiamo più resistenza E ci hai dato anche 1000 di gold a testa Penso Molto buono Molto buono Grazie grazie Lo so che è molto buono Però ovviamente non mi da manco un livello Che è una cosa buona È giusta L'h che ne dici Di riattaccare Uno con sharp Che ne dici di riattaccare i blue Si si da chi è fuori Dove sei ubicato Che verdi che verdi sono i nostri Oh qui c'è un wanted Anche io fallo Il panda con gli occhiali da sole è wanted Wanted lo distruggo male Guarda 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 lo sto trickshot Un pushound ma Che vo l'ha fatto Sto andando verso la nostra base però Bloccatelo Non fategli colpire Ma c'è il fat build Non lo so È morto Nice Anche se era mia la kill Però va bene Ha già la cheese Ok l'h non parlare Ma poletano Perché non sei capace Sì sicuro E attacchiamo i blue I blue dipinti di blue Devo mangiare Aspetta Perché proprio mi fanno antipatia Qui ci sono queste da mangiare Che fanno sempre bene Anche perché costano Ok Ho fatto il giro completo Quando potevo andare Senza problemi a sinistra Devono introdurre il bunny hop Minecraft L'h che c'è lo zombie Che sta bruciando un po' Ma sono troppi Sono troppi Ma Ma Invece sono morto Sono troppi Sono troppi Ovviamente ragazzi Ogni volta che si muore Aumenti il timer di respawn Però il nostro zombie È l'intoccabile Nessuno lo attacca Meglio così Lack dove sei? Sì song Dovrei dire Sei morto tu Ah tu Mi sai che sto qua Come dire Citta Non c'è la kill laura Non ditemi no Guardate Colpiva da lontanissimo Vabbè Report Report Guardate ci può uccidere Easy Cioè è fesso Ma che qua è qua Guarda Song Ma guarda dove colpisce Song Però non ci va Agressivissimo Ok è morto Non è scato Agressivissimo Lack e blu Stanno perdendo I cuori Piano piano O c'è qualcuno Lo sta attaccando Gli stanno tirando le frecce Non lo so Mentre non c'è l'ordo Possiamo provare A fare sto assalto Mi che ha messo tutti sti blocchi Improvvisati qua Dovrà essere Ah Perchè di Beh di blu Di colaccio Uno dei nostri Oltre non è dei nostri Basta mettere i blocchi a caso Lack mi è bloccato La mia Sto it La unica via di fuga Non se ne sono accorti Meglio 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 E vai colpisci Colpisci Così eliminiamo sti blu È morto È morto Non penso sia morto Tu colpisci fuori Perché alla fine Anche se ci picchia Poi noi uccidiamo Lo zombie Lo scompaiono Lo so Vabbè picchia lo zombie Sto picchia No mi hanno buttato giù Pichia lo zombie Da che fu Posso picchiare Mi hanno buttato giù Per risale Tu sei vivo o morto C'è qualcun altro Sei gran biscotto O la che sono Ah ci sono i blu Che si stanno picchia Da vicenda Non so perché Gliel'abbiamo rotto La lancioni fu Ok I magenti magenta Da che fu I magenta Da che fu I arancioni Magenti fu Così In passione Ah perché hanno visto Che gli abbiamo rotto Il cos'è Stavamo rompendo Il cos'è Voglio partecipare alla rissa Dove è finita l'arancione Oh ragazzi Questo fatto che mi Autosalzella Non lo so Non ne ho capito Comunque ci sono rampage Lack Vedimi sopra la testa Ma sei un troppo forte assai D'aglio Sì 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 Sei vantez Vantez E però mi vorrei Incentare Però ho ancora un livello Vediamo Vabbè Mi compro la pozione A 2000 A aiutare quanti livelli Mi dà Beh folle Una è una fregatura Lack c'è Vabbè folle Te ne do altre Livello Mi ha dato 2000 Solo Due livello Lack vieni un attimo Vieni vieni Fermo Fermo Aspetta Ci vuole attaccare Il nostro coso da dire Vuole dimmi che non ti c'è preso il coso E ti picchio Io l'ho preso Ragazzi Dai ste Tranquillo Qui c'è un arancione Ci vuole assentare Non dobbiamo perdere Manco un cuore Lack è volato giù Mi hanno detto Questo qui si crede Fiero Ma che ci siamo green Ci stanno spaccando il gigante Ho visto Faccio recall Recall Guarda come caliamo veloci Ma è lentissimo 32 Ma in quanto tempo si recalla Dio ma sono entrati dentro Ma c'è un tiro da TNT Mi hanno fatto cadere No Dio ma che c'è Hanno sfondato tutto qua Le nostre difese del castello Comunque sono morti penso E volo là sopra il nostro Sì Sono morti Sono morti E che attacchiamo I gold o i magenta Che ti fa più antipatia I fucsia Fucsia Ok Quindi attacchiamo i gold Però prima voglio andare al centro Vediamo se posso incentivarmi la scuola Wow Fucsia Luca ancora il rampeggio o no? Oh ma c'è uno con la pozione dell'invisibilità Che ho appena ammazzato Ma lei ha quello che si è buttato la pozione dell'invisibilità Ma che questo qua era invisibile Era molto stealth Solo che aveva una freccia nell'occhio E quindi si vedeva sta freccia che fluttuava nel nulla Però K Sto andando a rampeggio Sì Fuole c'è la best East Qual è? Come si è finito là sopra? Grande mi attira di in aria Sono abbrato là Ok l'h Si ammazza le stocco facilmente Perché quando vedi l'effetto del fuoco Ficcia In quel punto sta mettendo la tiretta Quindi ti metti dall'altro lato E non ti fa nulla A parte che ti tiri in aria Però K Stanno spaccando il coso Stanno spaccando il coso L'h Dobbiamo fare recall Oh no? Dovremmo fare recall Sì Cavolo Vettiginosamente il nostro colpo Cavolo Recall 5 secondi 4 3 2 1 Ah beh i magenta sono morti Magenta sono morti Però forsemente ci sono i gold Erano i gold C'erano i magenta Ok Quindi mancano da eliminare ragazzi Soltanto i gold Goldosi Che hanno 38 di vita Dobbiamo usciamolo a difendere Tac può essere Come la scorsa volta 1v1 E poi tac Che hanno preso da dietro What? Cos'era stati anni Ah double damage Al gigante Vedete che battila Ficchiamo Aspetta Questa non è la base Dei cosi Però c'è un arancione Ci sta attaccando di lato Che faccia L'autosalto Fuori me l'autosalto Mi ha saltato Su una L'h Allora appena tu spawni Vai a destra E cerca di ammazzare Quello che sta arrivando Io vado direttamente Agli arancioni Vediamo Si però non si può Autosalto Team del manga A me non sta dando fastidio Ancora non ci sono mai morto Anzi mi fa simpatia Anzi mi fa simpatia Guarda Anche se l'autosalto Tira lento Ah l'h Ma gli arancioni Proprio scialissimi Non hanno murato niente Ragazzi Abbiamo fatto prima una partita Sì che dovevamo Un team inutile No folle Quella che Avevano messo un muro Con dietro un fossato Ah ci hanno fatto Una trappola col fossato Ci hanno fatto entrare E ci hanno ammazzato Dunque abbiamo vinto Perché Lack questi qua scialissimi Proprio Niente Hai vinto Sì ho vinto da solo Ho colpito E' arrivato uno E bu Sciala Quanto bello Va bene ragazzi Secondo video Vinto Molto molto tranquillo Quindi niente ragazzoli Vi invito come sempre A lasciare tanti polliciotti in su Per sostenere questa serie E se vorreste passare Al canale di Lack Lo troverete qui sotto Nella descrizione E ci becchiamo domani Con due nuovi video Ciao ragazzi Ciao